Ancora demolizioni al comune di Porto Empedocle, dunque interventi per mettere in sicurezza l'intera città? Mettere in sicurezza e riqualificare urbanisticamente la città e questo era un obiettivo che per noi ha costituito il cruccio quotidiano. E oggi si realizza quest'ulteriore intervento che è stato anche particolarmente complesso dal punto di vista giuridico perché tanti erano gli eredi che bisognava inseguire, a cui notificare i provvedimenti in diverse parti d'Italia, anche all'estero e poi dare un'adeguata sistemazione agli occupanti di questi immobili, cosa che abbiamo fatto per tempo e quindi poter demolire. È un'operazione che continuerà, non si ferma nella via Spinola che è già stata interessata da massicci interventi di questo tipo. Continuiamo sul fronte mare della città e l'attività che è nata in questo senso si è mossa sia per l'intervento dell'ufficio tecnico sia perché giunse per tempo una segnalazione di un privato cittadino e quindi ci siamo mossi in maniera tempestiva e questo è necessario, ci vuole da un lato la collaborazione di tutti quanti, l'ufficio tecnico nostro ha un apposito nucleo che si occupa di sicurezza e decoro urbano che quindi quotidianamente è per le strade della città ci sono delle aree che vanno monitorate in maniera costante.